Anche la città di Agropoli, come in tanti comuni del Cilento, ha registrato nelle festività pasquali un boom di turisti. Nei comuni cilentani costieri, infatti, si sono registrati numeri elevati di visitatori provenienti da diverse regioni italiane, per ammirare il mare cristallino, degustare i prodotti della dieta mediterranea e soprattutto fare una passeggiata immersi nelle bellezze naturalistiche, culturali e storiche dei territori. Ma nella cittadina agropolese, l'attrattore di punta, il castello Angioino Aragonese, è rimasto chiuso. Amara sorpresa dunque per i tanti visitatori che nel weekend di Pasqua e Pasquetta hanno fatto visita alla capitale del Cilento, senza però poter visitare e conoscere la sua storia partendo proprio dal castello. Purtroppo l'antico maniero, che avrebbe potuto ospitare e far godere di una passeggiata culturale ai turisti nelle giornate festive, era chiuso. Né un biglietto, né una persona che potesse dare spiegazioni della sua non apertura. Il giorno di Pasquetta, gruppi dalla Sicilia, Puglia, Lazio e altri gruppi sciolti tutti venuti ad Agropoli per passare una bella giornata e per visitare il centro storico e il castello. Peccato che fosse chiuso, le persone dietro ai cancelli commentavano. Breve storia triste di un paese a vocazione turistica, lo scrive un commerciante di via Filippo Patella amareggiata per questo scarso servizio. Causa forse l'amministrazione sciolta o chissà cosa, la città di Agropoli, una delle più belle cittadine turistiche del Cilento, ha fatto una pessima figura proprio nei giorni di maggiore affluenza turistica.